Allora, da casa Mimmo, Lina e Anzoletto, il piccoletto che è in un'altra macchinetta, il povero Michichierino, lo saluto che sta nel mondo dei sogni, e con tutti i miei amici si inquadrano un po' uno per uno, così, se la camera si ti guardi, eccetera, Gianni, Gianni, Pietro, Domenico, Lina, Angela, Alessandro, Francesco, è il mio amore, Rosario, qui, girubola, capocella, stavo in camera. Allora, ok, signor, siccome è stata una bella serata qui a casa Mimmo, Lina, Francesco, Angela e il piccoletto, Michichierino, questa macchina, questo pezzo si chiama Tiemba, poi dopo facciamo una cosa un po' più allegra, però questa è bella, Tiemba, Tiemba che passa, Fimmo la volta qui, vicino a me, perché? Perché stai cercando una cosa, che rita, non devo fermare, non mi riavissi, e sai perché tu non mi riavissi, perché ti stavo scendendo a sport, se non ti fermassi, perché andò a passare, lo faccio tanto danno e guai, e fammi sentire, che risparmi, il cielo, il mare, le montagne, proprio tutto questo, è la rovina, schieretta, la rovina, il muro si fa lavorare, campagna, che è la terrazza, tutto il verde, è che l'albero e il grasombo e la fornuzione che si è di là vicino, chi l'ha scendendo, tu l'ha scendendo, perché le vietti, perché le vietti assorre, perché le vietti, perché le vietti, ha nemmorito, perché le vietti, lo accompagniamo lì di casa sicuro quando c'è il giugno, quindi agosto, perché ci non erano mai vacanze, così che va a sorridere da Marogliardo, a San Vincito, e dimmi una cosa, quando c'è il maciocchio, quando c'è la metruzione, c'è ragione, sempre se ci arriviamo, E' un attimo, peraltro ho fatto tutto il contrario, questo cammino. Quando ero l'altra mia più bella, vorrei decidere il frate e sopra. Perché sono loro, si sono frate e sopra, quando stanno nella stessa casa. Ero poi mi pensi, e cacchio su quello. Tra il mio tasco, oggi ho trovato i due sardini, e io vado a fare la mamma mia prima a muovo. E' il suonatorio di me vado a controllare, perché lo vado a fare il cammino e più fai d'altro. Sì, più fai d'altro, ce ne va forza, ce ne va anche per due, e quindi ce ne va più rapido. E anche a poteva fare niente. Un di me passi, mi fregge forte, vorrei una vita e sembrane a morte. Allora, questo è la cosa più allegra, tra virgolette. cora l'alfabene a tutte le persone che amano l'amore se tu cora l'alfabene